Benvenuti, Anima Flegrea prende finalmente il suo volo. Siamo qui con Miriana Trevisan e tutta la squadra organizzatrice di Anima Flegrea. Ciao Miriana, benvenuta. Grazie, è un onore per me essere qui. Stasera danzeremo con la musica, faremo vibrare queste acque. Qui ad Acqua Morta vi aspettiamo e se siete ancora a casa vi aspettiamo. Raggiungeteci, musica sull'acqua. Federica Iannuzzi, Angelica Romeo e Veronica Romeo. Lo staff è quasi completo. Benvenuti, Montediprocida.com. Grazie Paco. Buonasera, un saluto a tutti coloro che ci seguono. È una meravigliosa serata, anche dal punto di vista climatico. È gradevolissima e la bellezza di questa manifestazione sposa la bellezza dei luoghi. Grazie Sindaco. E quindi tutti pieni d'amore, di abbraccio, di passione con Anima Flegrea. Grazie. 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 Grazie a tutti